Torna dopo due anni uno degli eventi classici dell'estate nicosiana, Calici sotto le stelle. Giunta l'ottava edizione, la prima si tenne nel 2013, quest'anno è stata abbinata alla Notte Bianca. L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Nicosia ed è stato organizzato dall'Ecomuseo Petra da Sgotto e dalla sede di Nicosia dell'Onav Provinciale, l'organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino. Come da tradizione è stato costituito un percorso che partendo da Piazza Garibaldi permetteva alle persone di acquistare per pochi euro una pochette con un calice ed un assaggio di vino presso gli stand allestiti nel percorso. Gli avventori potevano anche degustare prodotti tipici locali. In Piazza Garibaldi si poteva degustare il classico pane consato con ricotta, olive e uova. In Piazza Marconi si poteva degustare pasta fresca con tre piatti, orecchiette d'Italia, abusiate dei profumi di Sicilia e strozza predi exotic fresh. Infine a Santa Maria di Gesù si concludeva il percorso con la degustazione dello sfizio del palato composto da due menu. Il primo di terra con maccherone alla ghiotta, griglia da mista di carne, trippa con patate, salumi e formaggi e panino con salsiccia. Il secondo di mare con busiate frutti di mare, pesce spada arrosto e insalata di mare. Il buon cibo locale era accompagnato da una carta di vini composta da bianchi, spumanti e rossi, una trentina di vini provenienti dalle più prestigiose cantine d'Italia e consigliati dagli assaggiatori dell'ONAV. Le degustazioni sono state accompagnate dall'ottima musica, con band ingaggiate dall'amministrazione comunale, con particolare impegno personale della consigliera comunale Arianna De Luca. Nella serata della Notte Bianca di Cosiane si sono esibiti, in Piazza Garibaldi, gli Alma Negra Live Music. In via 4 novembre il clan De Rocco Band, a Santa Maria di Gesù, Illusion Show Band in Piazza Marconi, C351, trio acustico. In tarda serata l'associazione La Cosa Nasce Cosa ha animato con un flash mob la zona di Santa Maria di Gesù, richiamando la tradizionale produzione di vino con la spremitura degli acini d'uva nei timi, accompagnati da musiche e balli folkloristici, coinvolgendo il pubblico locale.